Con l'autocoscienza l'attenzione si sposta dall'oggetto al soggetto, ovvero all'attività compiuta svolta dall'io, considerato però nei suoi rapporti non soltanto con le cose, ma anche con i propri simili, con gli altri io. Pertanto nella sezione dedicata all'autocoscienza l'analisi di Hegel non si muove più soltanto in un ambito astratto, in un ambito esclusivamente conoscitivo, ma riguarda settori più ampi, più vasti, prende in considerazione la società, la storia della filosofia e la religione. L'attività dell'io dell'autocoscienza si esprime innanzitutto come appetito, ovvero come desiderio di appropriarsi degli oggetti esterni, ad esempio cibandosene. Tuttavia questo desiderio di assimilazione dell'oggetto al soggetto si rivela presto insufficiente, inadeguato, illusorio, perché l'autocoscienza, per avere la certezza di essere tale, necessita non tanto di oggetti, quanto di altre autocoscienze. Secondo Hegel, cioè, l'essere umano è autocoscienza, cioè un essere libero e pensante, soltanto nella misura in cui riesce a farsi riconoscere come tale da un'altra autocoscienza. Per questo motivo non può limitarsi a cercare né gli oggetti sensibili l'appagamento dei propri desideri ed appetiti, ma ha un bisogno costitutivo degli altri uomini, anche se questo riconoscimento da parte di altre autocoscienze non è mai pacifico, ma mette capo il risultato di una lotta per il riconoscimento, di uno scontro vero e proprio tra più autocoscienze e quindi, in qualche modo, soltanto colui che riesce a risultare vincitore vittorioso durante una disputa per il riconoscimento, alla fine sarà riconosciuto, godrà del riconoscimento della propria esistenza.